Ci saranno anche la Fondazione Barbanera 1762 e l'ordo giardino del celebre almanacco barbanera tra le tappe del FAI Marathon di domenica 16 ottobre 2016. Volta a promuovere i luoghi di cultura, l'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano giunge ad appena un anno dal riconoscimento Memoria del Mondo, con cui l'UNESCO ha accolto l'almanacco foliante nel patrimonio documentario dell'umanità. E grazie al FAI di Foligno, presieduto da Maurizio Tozzi, i luoghi del Barbanera nella campagna di Spello si aprono a chi vorrà vivere le sue atmosfere della sua secolare storia. La Fondazione e l'ordo giardino di Barbanera saranno affidate alla guida di Ciceroni d'eccezione, i ragazzi della scuola media di Spello Galileo Ferraris per una visita di circa 45 minuti. Con l'orario 10, 12 e 30 e 14 e 30, 17 e 30, l'ingresso è gratuito per i soci FAI, mentre è richiesto un contributo di minimo 3 euro per i visitatori non soci.